Buongiorno a tutti, sono Luisa Vannucci, sono un'insegnante di francese del Liceo Linguistico di Castiglione Fiorentino. La mia esperienza all'interno dell'attività Erasmus si è svolta a Torrevieja in Spagna dal 20 al 27 ottobre 2018. In particolare ho osservato lezioni, nel mio caso soprattutto di francese e di tedesco. E di particolare interesse è stato l'utilizzo di piattaforme, materiali visivi, lavori a coppie o piccoli gruppi. Devo tuttavia sottolineare il fatto che non si è trattato di lezioni organizzate sulla metodologia CLIL, praticamente assente nella scuola ospitante, ma comunque basate sul coinvolgimento e la partecipazione attiva degli studenti. I primi giorni abbiamo avuto un incontro con il dirigente scolastico del IES Num 1 Libertas di Torrevieja, che ci ha illustrato il sistema scolastico spagnolo in generale, e in particolare l'organizzazione, il curriculum, le discipline, orario, il regolamento della scuola da lui diretta. È stato molto interessante anche l'incontro avuto sulla formazione professionale e anche sull'inclusione e l'assenteismo. Oltre a queste attività prettamente professionali abbiamo avuto anche l'opportunità di visitare alcune città bellissime vicine a Torrevieja, in particolare Alicante, Murzia, e devo dire che tutto il team che ci ha accolto ha veramente reso il nostro soggiorno molto piacevole. Dal punto di vista anche dell'arte, di storia dell'arte, dal punto di vista della cucina, perché no, abbiamo avuto la possibilità, insomma, di gustare veramente a pieno tutte le grandi ricette culinarie spagnole, come la paella, e perché no, anche il bere la famosa sangria. Quello che è rimasto di questa esperienza, devo dire, è un arricchimento importante, dal punto di vista non solo professionale, ma anche umano, e quindi credo che una ricaduta nella mia didattica ci sia stata dal momento che ho capito forse ancora di più che motivare gli studenti è fondamentale se vogliamo veramente ricevere da loro qualche riscontro oggettivo. E capire anche che il lavoro fatto a piccoli gruppi produce dei frutti sicuramente migliori che non secondo la didattica tradizionale. Grazie a tutti.